Bella a tutti ragazzi, qui Enricchi e ragazzi volete sapere che squadra utilizzerò su FIFA 18? Volete sapere? E allora non vi resta nient'altro che proseguire col video e vedere questa sigla! Ebbene sì ragazzi, utilizzeremo su FIFA 18 per la mia carriera allenatore il Bari, quindi partiremo dalla serie B Ho questa maglietta in pratica da allenatore, perché mi sono detto che prendo a fare la maglietta da giocatore se noi siamo degli allenatori, non dei giocatori come fanno tutti Quindi ragazzi, carichi per questa avventura, mi raccomando, tanti mi piace per farmi vedere il vostro supporto sotto questo video Tanti commenti sempre di supporto se vi va, questa sarà una carriera assurda perché la faremo durare molto E ragazzi, porteremo in qualche modo il Bari in Champions League, è una promessa da allenatore Ciao ragazzi!